L'unico vero viaggio sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma avere altri occhi, vedere l'universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento universi che ciascuno vede, che ciascuno è. Sono parole di Marcel Proust, tratte dal suo capolavoro alla ricerca del tempo perduto, che ci accompagnano nel tema di questa puntata di Le Forme della Luce, il podcast visivo dedicato alla fotografia, e chi vi parla è Valerio Cappabianca. Focus di questa puntata sarà il viaggio, quello fotografico, chiaramente, associato al percorrere, all'osservazione di uno spazio paesaggistico o urbano che sia. E per farlo useremo una fotografia di uno dei più importanti fotografi italiani, uno dei miei preferiti, devo ammetterlo, Luigi Ghirri. Con Viaggio in Italia, un progetto fotografico corale con diversi altri fotografi ed importantissimo, uscito nel 1984 ed in grado di cambiare del tutto il modo di fare fotografia nel mondo, si pone in Italia per la prima volta l'attenzione sui luoghi marginali, le città di provincia quasi deserte, le spiagge, le strade provinciali, e Luigi Ghirri diventa, a un certo punto, anche involontariamente, il caposcuola di un diverso modo di guardare il mondo fotografato, che stavolta viene visto da una distanza più equa, meno spettacolare se vogliamo, dove il sopporto fotografico, l'obiettivo, l'intera tecnica fotografica, diventano del tutto quasi invisibili, per concentrarsi invece solo sull'essenziale. Ed occorrerà intendersi bene su cosa intendiamo per essenziale. Qui parliamo di una fotografia in grado di emozionare, sì, ma allo stesso tempo in grado di porre delle domande all'osservatore. Spesso Ghirri parlerà delle sue incursioni fotografiche definendole viaggi domenicali minimi, espressione che ritrovo di una bellezza disarmante. Sentite bene, viaggi domenicali minimi. Erano, come racconta lui, passeggiate nel raggio di tre chilometri da casa sua, ad inventare uno sguardo nuovo, a ripensare in qualche modo l'abituale, il già visto, ricercandone però un senso mutato, una nuova chiave di lettura. Ghirri inventa così un nuovo concetto di paesaggio fotografico, proposto non nella sua oggettività banale, usuale, insomma così come si era solito vederlo, ma proponendo quello che potremmo definire un paesaggio interiore che attinge alla nostra memoria ed a volte all'infanzia. Le sue, più che fotografie, sembrano essere lettere al mondo per raccontare il senso dell'uomo ed il suo viaggio, tutto personale, dentro alle cose. E questa fotografia di Ghirri, scattata in alto adige del 1979, ci porta immediatamente all'interno del mondo della memoria, del ricordo. Due figure, un uomo e una donna, turisti, si tengono per mano intenti ad attraversare un paesaggio dolomitico. Dando le spalle all'osservatore, occupano la parte destra dell'immagine. Raccontata così, questa fotografia sembra invocare alla staticità, ma se la guardate bene, invece, questa fotografia parla di movimento, di un viaggio. I protagonisti, così inquadrati dal fotografo, si spostano chiaramente nello spazio. La riprova è che se fissando la fotografia provate a coprire la coppia, l'immagine diventa improvvisamente priva di senso. Il senso della fotografia è quindi dato tra la relazione tra l'uomo e il paesaggio. E questa relazione solo apparentemente è spaziale. In realtà il viaggio che interessava Ghirri è stato sempre il viaggio nella memoria. Usando lo spazio, certamente, ma il vero viaggio è dentro la nostra memoria. In questa fotografia di Ghirri noi guardiamo la foto di un ricordo, in realtà. Quante volte abbiamo visto una scena del genere? Uomo, natura, uno spazio sconfinato, un attraversamento, il viaggio. Lo sguardo si avventura in un luogo familiare che diventa sconosciuto, un punto di vista del mondo esterno che allo stesso tempo nasconde una visione su un mondo più nascosto, interiore. Nell'offrirsi di spalle i personaggi della foto diventano essi stessi elementi del paesaggio, oggetti da guardare. Potremmo addirittura sostituirci a quei personaggi, a quella coppia di turisti, diventare noi stessi gli spettatori del paesaggio. Ecco. Il gioco tra il dentro e il fuori, i suoi continui rimandi, è proprio questo il senso ultimo di quei viaggi interiori, di quei viaggi dominicali minimi di Luigi Ghirri. Come un passaggio tratto dall'opera dello scrittore Borges, che Ghirri amava citare spesso e che narrava di un pittore che volendo dipingere il mondo dipinse laghi, colline, monti, boschi, barche, animali e uomini. Alla fine della vita, mettendo insieme i quadri e i disegni, si accorge che questo immenso collage costruiva il suo volto. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordo che Le forme della luce, il podcast visivo dedicato alla fotografia, è sopportato ed ospitato da Accademia Fotografica, Scuola di Fotografia di Roma, e che è un progetto che per crescere ha assolutamente bisogno di voi, delle vostre condivisioni e della vostra diffusione. Quindi se ne vorrete fare parte e condividere questa puntata il mio più grande grazie. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Le forme della luce con altre forme e con altra luce. A presto.